Ho deciso di partire per l'Erasmus innanzitutto perché il mio livello d'inglese non era molto eccellente e allora ho deciso di partire per migliorare il livello d'inglese e anche per vedere una qualità di vita diversa e per ampliare i miei orizzonti e di conoscere persone totalmente diverse da quelle che conosco in Italia. Io sono andato in Polonia, a Cracovia, in un'azienda che tuttora faccio stagio, quindi era una seconda sede. Mi sono trovato veramente bene con i colleghi perché essendo che erano in pochi mi inglobavano sempre in tutti i discorsi, in tutte le esperienze e quindi ho avuto modo di approfondire, di conoscere e anche di imparare molto di più rispetto magari anche in Italia. Da questo punto di vista sono stato secondo me molto fortunato. Con i colleghi della Daftec Poland sono riuscito anche a visitare molte città e anche molte aziende della Polonia, quindi ho avuto modo anche di vedere vari aspetti anche di aziende estere e con sedi anche in Italia e quindi questa è stata un'esperienza unica dove magari non sarei riuscito a vedere tutti questi aspetti che in Italia magari dovrei ambire, magari fare emozioni diverse. Per ora sono ancora un po' in alto mare, però pian piano sto assemblando, sto mettendo i pezzi del puzzle e spero verso la fine, spero di quando avrò il diploma in mano, di avere le idee chiare e di capire cosa vorrò fare e cosa farò magari in un'azienda futura o quello che farò nella mia vita. Grazie. Grazie.